Ciao a tutti, oggi prepareremo insieme i brownies alle fragole, dei dolcetti semplici, veloci e deliziosi da preparare. All'interno di una ciotola inserite 2 uova e 110 g di zucchero, mescolate con una frusta. Poi unite 80 g di olio di semi di girasole e mescolate sempre con la frusta. Poi unite 80 g di cioccolato fuso, io sto utilizzando del cioccolato al lampone, però potete utilizzare il cioccolato che preferite, il cioccolato fondente al latte, quello che preferite. Mescolate bene il tutto, poi unite 80 g di farina 00, 20 g di cacao amaro in polvere e mezza bustina di lievito per dolci, mescolate con la frusta a mano. Ci tengo a precisare che questa non è la ricetta originale dei brownies, infatti come avete visto non c'è il burro, ho utilizzato l'olio, però per farvi capire il tipo di dolce che sto preparando. Versate il composto ottenuto all'interno di uno stampo quadrato 20x20, poi sopra decorate con delle fettine di fragole, poi infornate in forno caldo statico a 180 gradi e lasciate cuocere per circa 30 minuti. Ed eccolo qui, il dolcetto pronto in pochissimi minuti. È super super buono, coloso e anche carino da guardare. Spero che questa ricettina vi sia piaciuta e mi raccomando, se lo provate fateci sapere. Ciao a tutti e alla prossima ricetta! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!